Il sistema di fiori, va a girarsi i bucciarelli, palla buona ancora, lo stento per Maccarone, autolete, vantaggio Empoli, 1-0 Allora Maccarone, due uomini su di lui, trova il colpo di tacco per liberare Mario Rui, sta arrivando croce, poi Mario Rui all'interno dell'area di rigore, Mario Rui, Tavano, Tavano, 2-0 Empoli